Salve a tutti amici di YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Tempo fa vi avevo parlato di un operatore, però senza approfondire più di tanto, che è Rabona Mobile. In Italia abbiamo un bel po' di operatori mobili virtuali, anche se poi comunque alla fine. Quelli che si dividono nel mercato sono sempre i player maggiori. Però Rabona Mobile ha accolto la mia attenzione ultimamente perché sta facendo molta campagna social, sta investendo molto in Facebook per fare pubblicità e promozioni. E mi ha colpito la promozione di due tariffe di Rabona Mobile. E quindi voglio affrontare con voi Rabona Mobile e non solo queste due tariffe. Innanzitutto Rabona Mobile è una compagnia, giusto per fare un refresh, che mette al centro del suo brand quello che è il mondo del calcio appunto. Rabona Mobile parla da solo. Però quello che è un altro punto molto molto forte di Rabona Mobile è l'aver cambiato fornitore di rete. Perché prima si affidava a Tim, adesso da un po' di mesi è sotto rete Vodafone. E soprattutto è sotto rete Vodafone in 4G. Ora non è una cosa eclatante, visto che tra l'altro entro il 2021 Vodafone spegnerà il 3G. Ma ormai chi è che ha un telefono 3G? Un telefono, un tablet 3G, oramai i telefoni 4G, anzi andiamo verso il 5G. Il 3G verrà spento per fare spazio alle frequenze per il digitale terrestre 2. Ma ci sono delle offerte di Rabona Mobile particolarmente interessanti. È vero che non è una compagnia particolarmente grande, non ha un'offerta strutturata. Ma voglio andarla ad affrontare con voi. D'accordo? Qui ho il mio PC con tutte quante le informazioni. Partiamo dall'offerta. Attenzione, sono tutte quante offerte che si riferiscono a offerte in portabilità del numero. Quindi non nuovi numeri. L'offerta di base che si chiama Cross, prevede 8G, minuti limitati, SMS limitati, a 3,99€ al mese. Quindi un'offerta molto molto smart, chiamiamola così, molto economica, per chi non ha particolari esigenze e pretese. Penso che al di sotto i 3,99€ al mese, con offerta tutto incluso, non ci sia niente sul mercato. Soprattutto con una rete molto molto affidabile come quella Vodafone, che è limitata a 60 MB in upload. Poi abbiamo l'offerta Stopper, che sono 25 GB, 2.500 minuti, 250 SMS a 4,99€. Non mi chiedete perché è veramente 25, 25, 25, 250 e non illimitati. Poi abbiamo Attacco Mondiale, che è un'offerta che prevede 71 GB in 4G, minuti limitati, SMS limitati, a 7,99€. 71 GB, io devo capire perché è 71 GB. Poi abbiamo l'offerta, che è Rabona Top, a 100 GB, minuti limitati, SMS limitati, a 7,99€. Quindi 100 GB, minuti limitati, SMS limitati, a 7,99€. E poi le ultime due offerte, Stadio, 120 GB, minuti limitati, SMS limitati, a 9,99€ al mese. D'accordo? E infine Top Player, 150 GB, minuti limitati, SMS limitati, a 13,99€. È un'offerta di una low cost, non aspettatevi poi chissà che cosa può offrire in più. Non ha delle possibilità di customizzazione, come può essere un'opzione per l'estero, ex Unione Europea. Non ha un'offerta strutturata, però, se siete disposti a spendere 150 GB, per 150 GB, 13,99€ è il prezzo più basso che abbia trovato in rete. Anche 120 GB a 9,99€, se ci pensate, fino a un po' di tempo fa, la 3, quando esisteva, c'era l'opzione Gigabank, quindi qualche cosa si poteva mixare sotto questo aspetto. Ma l'ultima mega offerta c'è stata con Iliad, l'offerta flash, quella di un mese, 9,99€, 100 GB. Qua superiamo i 100 GB per 9,99€, rete Vodafone. Per chi non ha molte pretese, io ci penserei sopra. D'accordo? Io vi ringrazio che questo video vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace, condividere questo video. Ci vediamo al prossimo e... Ah, se volete e se potete donate la protezione civile per l'acquisto di presidi medico-sanitari e dispositivi di protezione individuale e portate la mascherina e... Io vi ringrazio. Vi ringrazio perché la crescita del canale mi fa particolarmente piacere. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!